Dottor Fazzi, salgono i contagi nella nostra regione? È un po' fisiologico, probabilmente era nelle previsioni, ma quanto e se dobbiamo preoccuparci? Allora, diciamo che era previsto, si era detto già per tempo, è naturale che con il freddo e con purtroppo l'aumento delle persone, tipo i ragazzi che vanno a scuola, che devono essere chiusi per molto tempo in un ambito ristretto, è naturale che la possibilità di infezione e contaminazione è inevitabilmente più alta. Dobbiamo essere preoccupati, sì e no, nel senso che se tutti quanti noi manteniamo la distanza di sicurezza da dove si può, ma soprattutto la mascherina, anche gli occhiali e ci puliamo le mani spesso oppure utilizziamo i geli di alcolici, non faremo circolare il virus e quindi se riusciremo a tenere bassa la circolazione del virus anche con gli asintomatici, perché comunque purtroppo anche gli asintomatici possono diffondere l'infezione, riusciremo secondo me a non avere un'ondata preoccupante, dovremo comunque preoccuparci perché dobbiamo essere consci del fatto che ci aspetterà un autunno, un inverno molto lungo e probabilmente come è successo l'anno scorso, a maggio e giugno avremo una diminuzione importante dei casi, in attesa ovviamente di un vaccino sicuro e immunogeno. I tamponi salivari in questo momento sono stati messi un attimo in stand by perché devono fare delle valutazioni di sensibilità e specificità, sicuramente la ricerca degli antigeni non dalla saliva ma da tampone rinofaringio e nasale, essendo dotati di un'ottima sensibilità, quindi in gergo tecnico si dice valore predittivo negativo molto elevato, che cosa significa? Significa che possono essere utilizzati come veri e propri testi di screening, mentre invece se il dato negativo è un dato abbastanza solido come certezza e quindi come garanzia di risultato, i positivi potrebbero da loro essere falsi positivi e quindi un dato positivo deve essere inteso come sospetto positivo e va confermato con un sistema tradizionale in realtà in PCR e quindi sarebbe la ricerca dell'RNA virale con le metodiche convenzionali che ormai tutti quanti anche voi conoscete.